Ciao, oggi è lunedì 18 gennaio 2021. Io sono Alessio Balbi e questo è Newsbox, il podcast di Repubblica che ogni mattina vi spiega in maniera semplice e senza dare niente per scontato le cose utili da capire prima di andare a scuola, all'università o al lavoro, quelle che ci toccano tutti. Oggi parliamo di fidanzati che vivono in un'altra regione, dei ritardi nella consegna del vaccino e del giorno più triste dell'anno, che probabilmente non lo è. Oggi voglio iniziare rispondendo a una domanda, anzi a una quantità di domande a dire il vero, che mi sono arrivate nel fine settimana, dopo che in un video di Newsbox su TikTok in cui spiego il nuovo DPCM avevo detto che ci si può spostare tra una regione e un'altra per ricongiungersi col partner. In effetti ci sono chissà quanti ragazzi e ragazze, anche tra voi che ascoltate, che da quando le regioni sono chiuse, quindi da prima di Natale ma alcune anche da prima, non sono più riusciti a incontrarsi e ovviamente non vedono l'ora di farlo di nuovo. Allora vi dico subito che c'è una notizia buona e una meno buona. Partiamo con quella buona. Il ricongiungimento con il partner è considerato uno stato di necessità che può essere autocertificato, proprio come uscire dalla regione o dal comune per andare al lavoro all'università o fare una visita medica. Su questo non ci sono dubbi, è scritto nero su bianco sul sito del governo. Però è qui che arrivano anche le cattive notizie. Ora vi leggo esattamente quello che c'è scritto sul sito del governo. Potete leggerlo voi stessi andando su governo.it, cercando le FAQ sulle misure anti-covid e guardando alla voce spostamenti. Allora a un certo punto il governo ricorda che è sempre consentito da qualunque zona il rientro alla casa di residenza, domicilio o abitazione. E poi fa alcuni esempi per spiegare il concetto di abitazione che effettivamente è molto vago. Per fare un ulteriore esempio, ora sto leggendo proprio dal sito del governo, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner ma che si riuniscono adesso con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione possono spostarsi per ricongiungersi nella stessa abitazione in cui sono soliti ritrovarsi. Fine della citazione. Allora al di là del linguaggio burocratico qui il principio è chiaro ma anche la cattiva notizia per tanti di voi che da quando gli spostamenti tra regioni sono bloccati non sono più riusciti a incontrarsi. E cioè quando il governo parla di partner parla di coppie in cui almeno uno dei due abbia una casa propria nella quale l'altro abita almeno per alcuni periodi durante l'anno. È chiaro che molte coppie giovani non hanno questa possibilità, tanti magari non l'hanno avuta proprio a causa del covid e quindi tante ragazze e ragazzi che vivono in regioni lontane mi dispiace ma dovranno ancora aspettare a incontrarsi. O a meno che non abbiano altri validi motivi per spostarsi. Ci sono dei problemi col vaccino anti covid di Pfizer quello che è stato già somministrato a più di un milione di italiani. Domani sarebbe dovuto arrivare un nuovo carico di mezzo milione di fiale ma venerdì la Pfizer ha comunicato all'Italia e in realtà a tutti i paesi dell'unione europea che le dosi in arrivo saranno molte di meno. O per l'Italia in particolare ne arriverà il 29% in meno cioè in pratica non ne arriverà una su tre. La comunicazione di Pfizer ha fatto arrabbiare parecchie persone a cominciare dal commissario straordinario all'emergenza covid in Italia che si chiama Domenico Arcuri che ha minacciato addirittura di fare causa. Pfizer dice che la riduzione delle consegne è solo temporanea e che è necessaria per potenziare un impianto di produzione del vaccino e che quindi in realtà dal mese prossimo Pfizer sarà in grado di consegnare anche più dosi di quelle inizialmente concordate. Il problema è che il piano vaccini come abbiamo imparato già in queste settimane è un'operazione molto complessa in cui anche un piccolo intoppo può fare danni a catena. Per dirne una ci sono le seconde dosi da iniettare, la seconda iniezione avviene a 20 giorni dalla prima e non somministrarle in tempo può ridurre di parecchio l'efficacia della vaccinazione. E poi c'è anche un sospetto di cui ha parlato proprio Arcuri in un articolo uscito ieri su Repubblica e cioè che le dosi sottratte all'Europa siano state dirottate verso altri paesi, si fanno i nomi degli Emirati Arabi di Dubai e di altre nazioni del Golfo Persico che sarebbero pronte a pagare di più per il vaccino. Però qui si tratterebbe veramente di un gioco a rialzo sulla salute delle persone al quale finché non ci saranno prove più che valide non possiamo credere. Forse sentirete dire da qualche parte che oggi, terzo lunedì di gennaio, è il giorno più triste dell'anno, il cosiddetto Blue Mandy. Ecco, non credeteci eh, ma magari è utile sapere come nasce questa cosa anche solo per smontarla. Sentirete dire che il Blue Mandy viene identificato grazie a un'equazione matematica che mette insieme una serie di variabili tra cui il meteo, la distanza dal Natale e dal giorno dello stipendio. In realtà si tratta di una banalissima operazione di marketing che risale al 2005 quando un'agenzia di pubblica e relazione americana che si chiama Porter Novelli ha contattato una serie di studiosi offrendogli del denaro, pensate un po', per mettere la loro firma sotto questo pseudo studio e alla fine ha trovato un tutor dell'università di Cardiff, un certo Cliff Arnal che si è prestato a questa operazione. Ora, per valutare la validità della cosa vi basti sapere che oggi lo stesso Cliff Arnal è diventato una specie di attivista contro il Blue Mandy, ma volendo fare anche noi un'operazione pseudoscientifica ma più scientifica di questa, se io dovevo pensare per esempio al Blue Mandy del 2020, che comunque è stato un anno già parecchio triste, io direi che il terzo lunedì di gennaio dell'anno scorso eravamo tutti ancora abbastanza spensierati. E poi un altro elemento, tra i motivi di tristezza della formula del Blue Monday, c'è per esempio il ritorno al lavoro o a scuola. In effetti oggi per 600.000 studenti delle superiori, almeno nelle regioni che hanno accettato di riaprire le classi, sarà il primo giorno di didattica in presenza dopo mesi e anche per gli universitari nelle università che hanno deciso di ripartire con le lezioni in presenza. Ecco, io sono sicuro che per tutti questi ragazzi il ritorno in classe o nelle aule universitarie sarà tutto, tranne che un motivo di tristezza. E insomma, oggi per qualcuno sarà un giorno triste, per qualcun altro sarà allegro, ma non ce lo dirà certo una formula inventata da un ufficio marketing. E anche per oggi è tutto, Newsbox torna domani, io vi ricordo che siamo su tutte le piattaforme gratuite di podcast, ma anche su Instagram e su TikTok, basta cercare Newsbox o Alessio Balbi il mio nome per trovarci. Quello è anche il posto nel quale potete scrivermi e dove rispondo alle vostre domande. Ciao, buona lezione per chi torna in classe e a domani.